Il critico cinematografico Gianni Canova ci ha raccontato come è nata la sua passione per il cinema. È come se lei mi chiedesse perché sono innamorato o invaghito di quella donna e non di quella. Capita. Le passioni... è meglio non spiegarsene perché poi se uno se ne va a spiegare e le capisce troppo finiscono. Preferisco non saperlo. Ce l'ho da quando ero piccolo. Mi ricordo una volta che rubai... facevo la prima elementare e rubai dei soldi dal borsalino di mia madre per infilarmi senza dirglielo in un cinema vicino a casa mia dove proiettavano un film in bianco e nero. E ricordo che fu la prima e l'unica volta in cui mia madre giustamente mi picchiò. Qual è il primo film che l'ha emozionata? Non si dice. Non si dice. Gli amori sono privati e le perversioni ancora di più. Non lo rivelerò mai neanche con la pistola a tempo. Tutti i film degli anni 60. Rocco e sui fratelli, la dolce vita, l'avventura, il posto, tutti i film di Sergio Leone, i pugni in tasca di Bellocchio, c'era una volta in America di Leone, l'ultimo tango a Parigi di Bertolucci. Via 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 per arrivare a noi, ai giorni nostri. Io sono un fan non pentito e un supporter dichiarato di Checco Zalone che trovo sia, come dire, anche se molti miei colleghi lo maltrattano e dicono di lui grandi cattiveri, in realtà dicono esattamente le stesse cose cattive che la critica diceva negli anni 50 su Totò. Non che Checco Zalone sia il nuovo Totò. Totò era un genio, Checco Zalone è un bravo comico, ma io lo sostengo.